Salve, io sono Marco e oggi ti mostrerò quanto è semplice e veloce creare un sito web per la tua attività con PageVamp. Per iniziare, visita la tua pagina Facebook. Questa è la pagina del mio ristorante e vorrei creare anche un sito. Mi basterà copiare il link e poi incollarlo sulla homepage di pagevamp.com. Mi chiede se si tratta della mia pagina. Rispondo di sì e sarò indirizzato alla dashboard del mio account. Qui posso vedere la mia pagina, che adesso modificherò. Ed ecco che il sito web è stato già creato. Adesso mi trovo nella scheda Design, dove posso cambiare elementi quali il font, i colori e le immagini della home. Posso anche scegliere il tema, cosa che farò subito. Posso modificare il sito e aggiungere più pagine, o mi posso limitare ad usarlo così com'è. Ora vado nella scheda Pagine per effettuare una modifica. Voglio nascondere la pagina Eventi e mi basta cliccare qui per farlo. Adesso diamo uno sguardo al sito. Eccolo qui. Con pagevamp ho realizzato un sito invitante professionale in meno di un minuto. Tutte queste informazioni sono state estratte dalla mia pagina Facebook. Mi riferisco alle immagini, le informazioni, i contatti. Non ho dovuto creare nulla da zero. Inoltre, ricorda che tutti i nostri account annuali integrano un dominio gratuito di tua scelta. Insomma, è tutto tuo. Un sito fantastico in meno di un minuto. Grazie. 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 Grazie.